Ed ecco la nostra Silvia, capello finito, abbiamo anche illuminato tutto il corpo con il nostro creme caramel e adesso non ci manca, cosa ci manca? Solo vedere l'abito. Ed ecco la nostra Silvia con i suoi colori, con il suo vestito che ha scelto per indossare per le feste. Come ti vedi Silvia? Nel primo e dopo, ti è piaciuta questa trasformazione? Sì, grazie. E adesso allora vediamo da vicino, da vicino, da vicino, questo nostro bellissimo effetto, pelle e viso. Super wow! Ciao!